L'Allianz Colazzo-Galatone continua a volare e dopo 21 giornate di campionato guida il girone H del campionato di Serie B di volley maschile in solitaria. Nel ventunesimo turno dunque Green Volley vince la diciassettesima gara stagionale in trasferta con il Mesagne con i parziali di 25 a 21, 8 a 25, 13 a 25, 18 a 25, dimostrandosi ancora una volta straripante. Eguaglia così il record della società storica Wallaby Galatone. Abbiamo intervistato il presidente Giuseppe Giuri. Un campionato straordinario il vostro. Sì, diciamo che quest'anno ci stiamo superando. Era l'obiettivo che ci eravamo prefissati a inizio stagione. Dopo un anno difficile, quello dell'anno scorso, quest'anno era nostra, diciamo, l'obiettivo principale era quello di dare entusiasmo in un paese dove la valla a volo si vive, si è sempre vissuta ad alti livelli. E quest'anno, nonostante le difficoltà, in quanto noi comunque giochiamo in trasferta, anche quando giochiamo in casa, stiamo riuscendo ad equagliare record come quello acquisito ieri. Qual è il segreto di questo successo? Il segreto è la passione, è la passione che coinvolge tutti noi, la voglia di fare bene, la fame di ottenere dei risultati importanti e di fare la storia in un paese che, diciamo, ha sempre calcato grandi palcoscenici. La Serie B è stato, diciamo, l'atto più importante. Quindi l'obiettivo nostro è di superare, diciamo, di superare ogni limite e di levarci qualche soddisfazione. Merito anche dell'allenatore e poi volevo sapere se c'è un giocatore più di altri che ritiene un leader. L'allenatore è importante come anche il gruppo. Come ripeto, per vincere lo spogliatoio il gruppo ti porta ad ottenere risultati, non la singola persona, perché non parliamo di un gioco, diciamo, fatto di singoli, ma un gioco fatto di gruppo. Non sono solamente i sei che scendono in campo, ma tutte e tredici le figure che abbiamo nel roster. Da Presidente, quanto si sente orgoglioso della squadra e cosa spera di regalare ai tifosi? Da Presidente mi sento orgoglioso per aver dato, innanzitutto, al paese abbiamo creato qualcosa di bello perché lo sport unisce, lo sport deve essere, diciamo, un punto sempre di partenza e mai di arrivo perché convolgere tante famiglie, tanti ragazzi è la cosa che ci rende più orgogliosi. Le vittorie sono bellissime, essere i primi in classifica è bello, però la cosa più bella è avere ogni domenica il palazzetto pieno di famiglie. Lavorate molto e puntate anche sul settore giovanile per far emergere magari anche i giovani locali? Assolutamente sì. La nostra società è nata nel 2017 proprio sotto forma di settore giovanile, quindi è stato questo il nostro primo step. Attualmente siamo la società con, in provincia, una delle prime per numero di tesserati. Facciamo anche tanti campionati perché giustamente quando fai un campionato di Serie B si è obbligato a fare diversi campionati provinciali e regionali. Naturalmente facciamo anche una prima divisione femminile che è un campionato anche importante con le nostre ragazze, con le ragazze di Calatone, dove l'obiettivo anche lì è fare crescere le piccoline per farle arrivare in prima squadra. Grazie. 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 Grazie.